Allora signori siamo qui in Rise of Kingdom, io non c'ho la voce ma nonostante io non abbia la voce stiamo partendo all'attacco dei JAL e cosa succede? Che praticamente abbiamo costruito un'altra un'altra bandiera, vedete che siamo tutti qua pronti a difenderla, mentre in questa situazione qua ci è venuto in aiuto questo tizio che non so che cazzo di lingua è, che ha attaccato il JAL e adesso i JAL sicuramente si stanno incazzando ma qual è il piano? Qual è il piano ovviamente? Il piano è quello di distruggere i JAL, i JAL come potete vedere sono tutti arrancati qua, vedete, tutti a nord, la loro fortezza è qua, non sono da noi perché sanno che noi non siamo un problema però gli sfonderemo le bandiere fino al passo, questo è il piano ma poi non si capisce tanto come cazzo si può comunicare con un giapponese che porca puttana ci dice attacco, attacco, attacco il cazzo, attacco, attacco la mia minchia dobbiamo essere un po' tutti uniti, dobbiamo contribuire, insomma vedete, praticamente qua ce l'ammasso perché? Perché è su e non da giù, visto che stiamo facendo l'attacco da giù perché praticamente qua ci sono i famosissimi 73RN che sono un clan come potete vedere che vi scopa la mamma e hanno più paura di loro che di noi a questo punto cosa facciamo noi? noi cerchiamo di fare un diversivo da sotto, dal passo facendogli praticamente cadere tutte queste bandiere basterà arrivare a questa bandiera qua facendola cadere che tutte quelle a sinistra cadranno e la stessa cosa vale per il passo una volta che abbiamo preso il passo anche quelle a destra cadranno sarà un effetto domino e noi siamo qua, vedete, siamo proprio vicini al passo ci mancano questa bandiera praticamente, adesso la stiamo facendo questa qua verrà completata, non c'è nessun problema mancano 4 minuti sfonderemo una di queste bandiere a questo punto penso che sfonderemo questa in questo modo riusciremo a togliere di mezzo tutte quelle a sinistra e poi attaccheremo il passo o meglio, tenteremo di sfondarlo speriamo che non ci siano barriere né cose né unità di difesa per adesso noi siamo tutti in torre stiamo mandando qualcuno in perlustrazione stiamo ovviamente continuando con gli scout a tenere sott'occhio i villaggi dei JAL che ci sono perché qua alcuni villaggi dei JAL ci sono e insomma vediamo un po' come conviene qua invece vedete che ci sono dei raccoglitori ma questi penso che siano offline altri JAL qui insomma la situazione è abbastanza critica però forse ce la facciamo il punto qual è? è che da nord io non vedo aiuti cioè è vero che il cinese, il giapponese è venuto a aiutarci però da nord non vedo l'attacco si vede che questi si stanno già preparando vedete che sono tutti schierati qua perché sanno che la fortezza può essere attaccata solamente da nord noi non abbiamo le forze per attaccare adesso questi qua stanno cercando non so se ci sono delle truppe cerchiamo le truppe, questi qua si stanno muovendo vedete che sono già pronti vedete che alcune truppe sono, meno male e noi siamo qua in bandiera adesso le prossime mosse saranno appunto quelle di di costruire bandiere su bandiere fino ad arrivare al passo comunque cercare di distruggere ecco questo JAL si è messo già lo scudo perché ha capito che non era il caso caro amico hai voluto venire in base nostra pezzo di merda pezzo di merda rotto in culo ti scopo la mamma e adesso ti scopo la mamma infatti quelli furbi si sono scudati perché sanno che qua succede il finimondo ma perché noi ci possiamo permettere di fare i fighi? perché abbiamo questo qua questo giapponese qua che è a livello 24 insomma questo qui praticamente da solo può sfondare può sfondare praticamente un esercito intero perché c'ha delle truppe a livello sicuramente già 4-5 sicuro a livello 24 ci sono 25 livelli fate voi il conto ora la prossima mossa sarà la prossima bandiera questa battaglia sarà molto lunga io non so quanti video potrò far uscire di questa battaglia vediamo cerco di fare il più possibile intanto potete vedere che io ho dei farmer che ancora stanno farmando perché anche sotto la guerra bisogna farmare questo qui è un figlio di puttana che ha lasciato 68.000 pezzo di merda cornuto cornuto e bisogna sempre farmare perché le risorse tipo cibo legno sono importantissime per curare le unità io spero di non perdere truppe perché perdere truppe contro sti coglioni è praticamente una roba che mi darebbe un fastidio atroce loro si stanno cagando addosso non sono più i simpatici di prima che ci hanno invaso la base pezzi di merda adesso ti scopriamo la mamma e quindi vedete adesso stiamo facendo tutto abbiamo truppe intorno alla bandiera ma di sicuro non verranno non verranno a difendere perché sanno che da nord gli scoperanno la mamma sanno che da nord gli scoperanno la mamma io non so da quale lato perché qua le uniche bandiere sono queste c'è solamente un leg 2 vedete questo è un leg 2 proprio posizionato strategicamente c'è un 73RN qui di livello 16 quindi di livello alto io sono più alto ovviamente e e adesso la situazione è bella è bella in stallo perché sono tutti qua a difendere perché sanno vedete giallo si è già messo lo scudo sono qua che hanno capito che succederà qualcosa di brutto hanno capito che l'invasione che ci hanno dato sarà ripagata con ampie monete allora io poi i prossimi video vi porterò ancora le cronache di questa battaglia vediamo un po' dove arriveremo ora vi saluto eccolo qua vedete un altro dei nostri che si sta unendo ora vi saluto tanti like per capobastone questa è la situazione geopolitica incredibile in questo server veramente ragazzi c'è ci si diverte come dei figli di puttana e come sempre vi ricordo che il clan è importantissimo uniti vi ad un clan non giocate da soli perché molti degli eventi li potete fare solamente con i clan poi come se non bastasse mi stavo dimenticando prima di salutarvi sotto sotto ci sono altri cancroni come potete vedere questi cancroni qua a pds che hanno scalato praticamente da sotto vedete da sotto sono arrivati fino a qua adesso io non so cosa succederà in questo in questo frangente qua io spero che questi qui non attacchino voglio ben sperare però le bandiere attaccate è un bruttissimo segno soprattutto vicino al santuario e adesso vediamo un po' come come fare ecco vediamo un po' come fare abbiamo completato la bandiera e adesso vediamo quale sarà la prossima mossa la prossima bandiera la prossima bandiera ecco stiamo andando all'attacco quindi andiamo all'attacco andiamo minchia madonna guardate quanti cazzo siamo porca puttana cazzo cazzo incredibile madonna 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 qua gli scopiamo la mamma qua gli scopiamo la mamma qua qua gli scopiamo la mamma adesso si che gli scopiamo la mamma comunque noto che dopo il mio video finalmente finalmente la gente ha sviluppato il livello 3 finalmente sono un po' di più perché l'altro giorno eravamo veramente con le truppe che andavano a caccia con i bastoni veramente sono contento perché finalmente la gente sta arrivando con le truppe di livello 3 meno male meno male ecco finalmente allora la bandiera adesso brucia quando brucerà questa bandiera tutte le altre cadranno ovviamente non è che si distruggono tutte queste tutte queste qua vedete ad esempio questa questa non è che crollano cioè non è che si distruggono però diventano inefficaci cosa vuol dire che non producono più niente cioè nel senso prendiamo ad esempio questo questo coso qua no vedete questo coso qua produce all'alleanza dei giall mille di oro all'ora se la bandiera diventa inefficace perché questa viene distrutta e quindi tutte a domino vengono distrutte questo questo deposito non produrrà più mille all'ora ai giall ma diventerà inefficace come tutte le altre bandiere collegate ora cosa succede succede che praticamente dopo loro non guadagnano più non guadagneranno più e quindi saranno più deboli guardate qui che filo che abbiamo fatto guardate qua che assalto perché tanto se arrivano ma non vengono non vengono sapete perché non vengono perché hanno paura che appena vengono loro perdono da sopra perché stanno solo aspettando noi abbiamo una tattica incredibile che quando loro se loro venissero giù gli altri li attaccherebbero da nord loro non vengono vedete stanno richiamando tutti i farmer tutto capito perché si stanno preparando speriamo che sia la metà della metà della gente online e il collegamento qua adesso non so come come sarà perché non vedo truppe ad aiutarci da nord forse l'idea è solamente prendere il passo e poi dopo loro attaccano da nord non ho ben capito perché non si riesce a capire un cazzo con il traduttore non si capisce veramente una sega di niente e niente quindi alla fine signori siamo qua siamo qua in grande stile guardate finalmente un po' di truppe livello 3 minchia le vedo perché cazzo vedevo solo contadini prima sono veramente euforico i miei video funzionano quindi signori siamo qui in combattimento ci ribecchiamo al prossimo video vi farò sapere come va e poi se riusciamo a buttare giù questa ma penso di si andranno giù anche tutte le altre e insomma ragazzi questo questo è il vero spirito di questo gioco unione forza e scopa le mamme soprattutto le sorelline in calore perché magari le mamme se le scopano loro io mi scopo le sorelline in calore tanti like per capobastone e io ovviamente vi insegno un ultimo trucco prima di chiudere io sono qua no invece di stare qua che tanto non viene nessuno io sono qua perché intanto farmo no intanto mentre sono qua aspettare vedete le mie truppe stanno raccogliendo cibo poi io posso combattere posso andare a fare in culo posso fare qualsiasi altra cosa tranne raccogliere altri tipi di materiali se no si resettano quando tornerò in base le mie truppe in base porteranno anche anche il coso porteranno quindi avete visto che roba adesso se attacchiamo il passo ovviamente mi devo mi devo muovere anch'io perché ovviamente c'è bisogno di me perché per raccogliere il passo siamo veramente in tanti e guardate se riesco ve lo faccio a vedere in questo video ma non credo che lo attaccheremo perché non credo proprio che riusciremo ad attaccarlo però in teoria non ci sono difese nessun tipo di protezione se riusciamo forse ce lo possiamo anche prendere guarda forse forse ce lo possiamo anche prendere quasi quasi guardate io sto facendo tutto in diretta voglio vedere se riesco a prendere almeno il passo con questa voce da trance voglio vedere se riusciamo a prendere a prendere il passo e godo 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 veramente godo godo come un maiale godo come un maiale ti prego prendiamoci il pass ti prego prendiamoci il pass dai che godo dai che godo minchia ti prego vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo a prendere il pass minchia gli stiamo scopando la mamma se cade il pass cadono tutte se cade il pass cadono tutte spero che non ci sia difesa spero che non ci sia difesa Speriamo, voglio ben sperare Adesso vediamo cosa decidono di fare Tanto la bandiera è in fiamme, queste qui tanto Sono tutte in fiamme, questa qui la possiamo anche bruciare Infatti l'hanno già bruciata, bravissimi Bravissimi che l'ha bruciata Vedete, tutto quello che confina tra noi e loro Lo potete bruciare di bandiera Però dovete aspettare, perché la bandiera non cade subito Adesso vediamo, se no Lo attacchiamo il prossimo volta, perché qui Non so, no, mi sa che Tornano indietro, non ho capito perché Ah, devono fare la bandiera, allora aspetta Andiamo a fare la bandiera, poi nel prossimo Nel prossimo video sicuramente il prossimo passo Sarà quello di attaccare la fortezza, anche perché Poi dopo crollano tutti, perché questo è Territorio, questo rettangolo qua È territorio, tutto Del passo, no, questo quadrato enorme Vedete, questo quadrato enorme È tutto territorio del passo Allora, io vi saluto Tanti like per Capobastone Madonna, madonna Gli stiamo scopando Gli stiamo scopando le sorelle, non a pecora A 90 gliele stiamo scopando Proprio giù, giù Proprio come le professioniste Tanti like per Capobastone La vendetta si sta attuando Io ringrazio ovviamente il nostro amichetto Dove cazzo è andato Questo qui, che ovviamente livello 24 Cioè, non puoi competere Non puoi competere Tanti like per Capobastone E noi ci ribecchiamo Al prossimo episodio E bye bye Giall, bye bye Ci avete voluto invadere Adesso vi scopiamo la mamma Bye bye Giall, bye bye Tanti like per Capobastone Aga gagagra